Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi volevo proporvi un qualcosina di diverso in compagnia di Marianna. Infatti io per la maggior parte del tempo non proferirò parola. Bene, ciao a tutti! Cercherò di essere più esaustiva possibile con le informazioni nel poco tempo fornitomi e niente. In ogni caso avrete già imparato a conoscere Marianna nel corso di tutti i video in cui è comparsa, quindi lasciamo la parola a lei, ma prima di far ciò correte in cucina a prendere di popcorn e una bebita fresca per gustarvi meglio quest'ultimo contenuto. Detto questo, quando avete fatto... Questo è il cane che russa. Una volta fatto questo possiamo mandare la nostra fantastica... Sigla! Quindi cosa andrà a fare questa bellissima ragazza? Andrà a consigliarvi tre anime che a lei sono particolarmente piaciuti. Diamole la parola. Ok. Allora parto facendo due premesse. Questi anime sono piaciuti a me, potrebbero non piacere a voi, ma si tratta di gusti personali. Secondo punto, parlo degli anime, non i manga, che io posso aver letto o non aver letto, ma non è questo il momento per discutere di questo. Se no il video si chiamerebbe tre manga che vi consiglia Mariana. Sì, esatto. Allora, innanzitutto sono tre anime che si trovano tutte e tre su Netflix, se volete vederli. Non siamo sponsorizzati da Netflix, quindi va bene. Ti pare. Allora, il primo che voglio consigliare è Helsing Ultimate e praticamente parla di questa associazione Helsing con a capo questa donna molto forzuta, integra, che appunto si occupa nel sconfiggere i mostri e a sua volta lei utilizza un mostro per sconfiggere gli altri, che è questo vampiro Alucard. Tra l'altro qui voglio intervenire un attimo io dicendo che comunque la figura di Integra, per essere un manga barra anime incominciato da Kotairan negli anni 90 e concluso nei primi anni del 2000, è molto nuova, diciamo, molto innovativa ecco come figura. Quindi, perché vedere Helsing? Se vi piacciono i vampiri, l'horror e l'azione e anche un pochino di splatter, mi sembra di ricordare. Un po' tanto splatter, sì. Ok, fa per voi. Il secondo anime che vi voglio consigliare invece è Kiseiju, l'ospite indesiderato, chiamato anche Parasite e praticamente racconta di questo ragazzo Shinichi, un ragazzo normalissimo, un po' una mezza cartuccia all'inizio, che pian piano diventa più forte, diventa più forte perché all'interno del suo corpo arriva un alieno parassita. Buono però. C'è anche un risvolto tra l'altro amoroso all'interno dell'anime, quindi abbastanza tragico anche a dire il vero, come manga barra anime tanto la storia è uguale. Tra l'altro è un anime che ho apprezzato particolarmente anch'io, l'ho visto molti anni fa e vorrei reperirne il manga. Purtroppo in Italia è dedito dalla Goen e quindi è difficile reperire i volumi, soprattutto i primi. Purtroppo, ahimè, perché lo vorrei davvero fare. Perché vedere Kiseiju? Se vi piacciono, insomma, un po' quelli d'azione con anche risvolto romantico. Tragico anche. Romantico, sì, romantico tragico. Secondo me ci sta. Poi, il terzo invece e ultimo anime che vi vado a consigliare, sicuramente l'avrete già sentito, ma è curioso perché molti ne sentono parlare ma non sanno la trama. Vabbè, io ce la faccio esasperata perché non dico non mi stia piacendo ma me lo sta facendo vedere un pochino a forza. Comunque si tratta di Nana. Che cosa racconta Nana? Nana racconta di due ragazze che si chiamano entrambe Nana, che si incontrano sul treno, sullo stesso treno, che sta andando a Tokyo e che poi dovranno condividere l'appartamento. Perché guardare Nana? Secondo me Nana non può essere solamente targetizzato come un anime barra manga romantico, ma va invece a elencare tutte le sfaccettature dell'essere umano. Quindi ci abbiamo tipo sia l'amore più o meno malato, l'amore corrisposto o non corrisposto, coloro che abbandonano l'amore per inseguire i propri sogni, o il contrario invece, abbandonare i propri sogni per inseguire l'amore, prostituzione, tradimenti, c'è di tutto in Nana e nel momento in cui lo vedrete sembra di essere sulle montagne russe. Cioè, un episodio ridete e quello dopo piangete. E niente, lo sto facendo vedere a Federico perché io ero una di quelle persone che per anni ha sentito Nana, Nana, Nana e poi... Batman! Sì, esatto. Poi l'anno scorso, in pieno Covid, quando eravamo reclusi in casa, mi son detta, provo a iniziarlo, veniamo! E in tre giorni l'ho finito e mi son data della stupida, perché potevo iniziarlo molto prima. In ogni caso comunque si tratta di una gran bella storia, posso garantirvelo, nonostante come abbia detto qualche minuto fa, me lo sta facendo un po' uscire dagli orecchie, perché ogni volta che ci vediamo è un guarda Nana, guarda Nana, guardiamo Nana, Federico ti prego guardiamo Nana, vai avanti, vai avanti, vai avanti, e ok. E mi sento di consigliarvele comunque anch'io. E dunque questi erano i consigli che ha voluto darvi quest'oggi Marianna. Voglio specificare che Hellsing e Parasite sono due serie anime concluse, mentre Nana purtroppo, per volere dell'autrice, è interrotto. Detto questo, se il video vi è piaciuto, io vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video con i vostri amici, vi ricordo che in descrizione sono presenti il link per il gruppo Telegram e per la pagina Instagram, vi aspetto su quelle due piattaforme, e ultimissima cosa, ma forse la più importante, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati con le ultimissime novità del Mon Malta. E noi dunque ci vediamo... per un prossimo video. Ciao!